Saliamo ora di categoria con gli atleti della G3, divisi quest'oggi in due batterie. Andatura ancora tranquilla per i ragazzi della G3, infatti il gruppo occupa l'intera sede stradale. Terzo giro con Camignone, Monteclarense, Timmate e Capriano sulla testa del gruppo. Ultimo giro e al comando troviamo otto atleti. E nella volata finale ha la meglio Zanetti Daniel della Nuvolento, che precede Bollini-Andrea, Mata-Team, Chiari Federico, Springedi, De Luca Giovanni della Monteclarense, Martinelli Simone e Capriano. Nella categoria femminile trionfa Spini Martina della Ronco davanti a Sonia della Mazzano e Lorandi Sofia della Springedi.